Attività commerciali di Fano e Pesaro prese di mera dai ladri. E' accaduto di nuovo la notte scorsa, intorno all'1.15, al bar Tabacchi del distributore di carburante Kuwait in via Sandro Pertini a Fano. I ladri, dopo aver sfondato la vetrata della porta d'ingresso con una grossa lastra di cemento trovata lì vicino, si sono introdotti nel locale dirigendosi dietro al balcone del bar, dove hanno prelevato 150 euro dal fondocassa e 1.500 pacchetti di sigarette, mettendoli in grossi sacchi della spazzatura. Valore del bottino quasi 7.000 euro. Tre sono i ladri ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, che dopo il colpo si sono dati alla fuga a piedi, ma si pensa che una quarta persona possa essere rimasta nelle vicinanze per fare da palo. Solo qualche settimana fa, racconta il titolare, avevamo subito un altro furto. In quel caso avevano portato via tre slot machine. Ad un'ora di distanza da questo episodio, alle 2.45, quattro malviventi con il volto travisato, forse sempre gli stessi, hanno preso di mira il bar circolo Arci Tombaccia. Sono entrati all'interno rompendo questa finestra laterale della struttura. In solo un minuto e mezzo hanno portato via, anche qui, tre slot machine. Sentiti dei rumori, il genero della proprietaria del bar, che abita al piano superiore, si è affacciato alla finestra e proprio in quel momento ha visto il quartetto che caricava la rifurtiva in un pick-up Mitsubishi, rubato poco prima in località metà origlia di Fano. Il testimone, che ha subito allertato le forze dell'ordine, ci ha raccontato che i malintenzionati, tutti uomini, parlavano con un accento dell'est. Anche per lui stesso furto, subito due anni fa. Sul posto, in entrambi i casi, sono intervenuti gli agenti del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, che stanno indagando sui responsabili. Ma la città della fortuna non è l'unica ad essere presa di mira. La vicina Pesore, infatti, non è da meno. Proprio ieri il titolare del bar Tabacchi, Mivida, aveva sparato due colpi di fucile per spaventare i malviventi. Aveva preso una carabina da cinghiale e mirato alle gomme di un furgone. Non aveva colpito nessuno, ma è finito ugualmente nei guai. L'uomo è stato denunciato per esplosione di colpi in luogo pubblico. La scorsa notte, invece, intorno alle 2.50, i ladri, almeno in tre, hanno fatto visita al distributore di carburante Tamoil in strada della grottaccia Santa Maria dell'Arzilla, dove hanno rubato poche decine di euro in contanti e batterie per automobili, dopodiché si sono introdotti nel bar Tabacchi annesso al distributore. Qui hanno sportato due slot machine, una macchinetta cambiamonete, sigarette, gratte e vinci e bottiglie di vino. Un danno economico che ammonta circa 10.000 euro, indagano i carabinieri di Pesaro.